La dirigenza del settore giovanile dell'Aquila Calcio è a scuola d'inglese. Il presidente Fabrizio Rossi, il responsabile del settore tecnico Maurizio Ianni e il consulente Vasco Morelli sono infatti volati ieri a Birmingham per incontrare i vertici della Stonevilla, storica società della Premier League inglese, la nostra Serie A di calcio. L'obiettivo è di stabilire una collaborazione con il Vivaio d'Oltremanica grazie all'intermediazione di Simone Farina, dirigente nel Vivaio della Stonevilla ed ex giocatore e compagno di squadra del consulente Aquilano Vasco Morelli ai tempi del Gualdo, stagione 2005-2006 in Serie C2. Un altro sorriso quindi per le giovanili dell'Aquila che arriva dopo l'ultimo fine settimana da incorniciare grazie alle vittorie degli allievi nazionali nel derby con il Pescara vinto per 1-0 grazie al sigillo del baby gioiello Natella e della Berretti che ha avuto la meglio sempre per una rete a zero contro la Salernitana grazie alla marcatura di Ruggini.